Un cordiale saluto da Andrea Biagione di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Scandice e Incisare Gelo in entrambe le direzioni e tra Badia e Bivio con la variante del Valico in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Monte Catiniterme in direzione Pisa. In Fipili a causa di lavori 5 chilometri di coda tra Scandice e Ginestra Fiorentina verso Livorno e 2 chilometri tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze. Sempre in Fipili ma a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!